Ora continuiamo a parlare di calcio e del Parma, ma stavolta della formazione Under 18 che ha conquistato i tre punti nella prima giornata del girone di ritorno battendo 4-2 i pari età del Torino a Collecchio. I gialloblu di mister Giovanni Valenti hanno centrato così la terza vittoria consecutiva portandosi in settima posizione a un punto dallo stesso Torino. A decidere il match sono stati i gol nel primo tempo di Ribaudo su rigore e di Mattias Mir che ha fatto il bis nel secondo tempo dove è arrivata anche la rete di Flex. Inutile per il Granata la doppietta di D'Agostino nel secondo tempo da sottolineare anche il rigore parato dal portiere gialloblu Andrea Piga nel primo tempo quando si era ancora sullo 0-0. Ripresa del campionato anche per la formazione crociata Under 17 che ha impattato per 0-0 in casa contro la Sampdoria.